Paolo Di Rizzini, allenatore del Baeso Secchia, mi sembra alla fine Paolo un risultato giusto un tempo per uno, mi sembra un 2-2 che sia il risultato più equo. Sì, per quello che si è visto in campo devo dire che il risultato giusto è il pareggio, perché al primo tempo loro avevano il pallino del gioco in mano, ma noi abbiamo avuto quattro belle occasioni, due sfruttate e due un po' meno, però comunque per quello che si è visto in campo il 2-2 è giusto. Avete fatto un gran primo tempo, molto aggressivi, sempre sulle seconde palle e anche poi dopo il secondo tempo forse avete pagato un po' questo primo tempo giocato a ritmi molto alti. Sì, diciamo che il gol al 45esimo ci ha tagliato un po' le gambe anche quello, perché quando si va al vantaggio, se si andava alla sosta del primo tempo sul 2-0 sicuramente la partita al secondo tempo sarebbe stata diversa, il 2-1 ci ha cambiato un po' le carte in tavola, però devo dire che i miei ragazzi danno sempre l'anima e io sono contentissimo. Senti, continua un buon periodo, dopo due vittorie consecutive questo pareggio, quindi continuate la serie positiva. Continuiamo la serie positiva, devo dire che 27 punti in 14 partite sono un buon bottino e speriamo di chiudere al meglio domenica a Scandiano.